L'unedì la Polizia di Stato di Udine è arrestato un rumeno ricercato dando esecuzione all'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova nei confronti di questo cittadino rumeno, 26 anni, residente a Milano. L'uomo è stato identificato dal personale della squadra volante della Questura nell'ambito del quotidiano controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Mentre la volante transitava in via Pietro di Brazzà, infatti l'attenzione degli operanti è stata attirata dai due soggetti, un uomo e una donna di giovane età che a bordo di un'autovettura percorrevano la via con modalità sospette. Entrambi infatti dopo i controlli sono risultati soggetti pericolosi con vari precedenti per reati contro la persona e anche contro il patrimonio. Non solo, sull'uomo appunto gravava questa misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova il 28 marzo 2023 per il reato di rapina aggravata. L'uomo infatti nel gennaio del 2021 insieme a una donna nel centro di Rapallo aveva commesso una rapina ai danni di un 72enne. Nello specifico l'anziano era stato avvicinato con una scusa dalla donna la quale senza apparente motivo lo aveva successivamente aggredito afferrandolo per un braccio e strattonandolo ripetutamente prima di fuggire a bordo dell'autovettura condotta dallo stesso cittadino rumeno. Solo dopo questa improvvisa colluttazione l'anziano si è accorto che gli era stato sfilato l'orologio di marca Rolex che portava al polso. Subito dopo l'arresto il cittadino rumeno è stato portato presso la casa circondariale in esecuzione della misura disposta dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo Ligure e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.